Ciao ragazzi, come state? Benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo a casa, oggi facciamo vedere Blu-ray, solo Blu-ray. Guarda, che è questo? Guarda, c'è scritto qua, Blu-ray. Guarda. L'ho comprato io, questo Blu-ray. Si chiama Zopropolis. L'ho comprato il 26 novembre 2018, due anni fa. Facciamo vedere. Te lo dico io dove si trova, dove ho comprato. A Media World, centro commerciale a Sassari. Quando finisce il coronavirus dovete andare anche voi, va bene? Io ce l'ho. Guarda, guarda. E un altro, ce l'ho, guarda. C'è anche questo. Questo è di più difficile. Ecco. Ok, aspetta. Questa è il filmo.